Quello relativo al futuro di Paolo Di Bala è un vero e proprio caso di mercato, che si sta protraendo da più di due anni in casa Juve. Tantissimo tempo, senza dubbio troppo. E infatti siamo arrivati senza un verdetto fino a una manciata di mesi dalla scadenza effettiva del contratto dell'argentino con i bianconeri. Ovviamente però questa situazione non potrà andare avanti ancora a lungo. Anzi, i prossimi giorni saranno probabilmente molto caldi su questo fronte. E già da queste ultime ore infatti stanno emergendo novità molto pesanti, tra le quali anche un grosso nome a sorpresa per l'eventuale sostituzione di Di Bala. Marzo sarà il mese della verità. La Juventus farà la sua proposta definitiva, al ribasso, a Di Bala e al suo agente Antun, quindi attenderà solo di conoscere la risposta definitiva dell'argentino. Sapendo che una rottura a questo punto rimane tra le possibilità più accreditate. Come riferito da Sport Mediaset, sembra che la Juve sia entrata nell'ottica di «rinunciare» al giocatore. Una parte della dirigenza bianconera infatti non reputerebbe una tragedia la perdita dalla gioia, sia dal punto di vista economico che da quello tecnico. Soprattutto nel caso in cui si riuscisse a sostituire il numero 10 argentino con un profilo di altissimo livello. Ecco dunque spuntare anche un possibile nome, che sta circolando proprio in queste ultime ore. Si tratta di Marco Asensio, vecchio pallino della Juve che a fine stagione potrebbe lasciare il Real Madrid. Stando a quanto riportato in Spagna da Sport, il trequartista classe 96 non avrebbe ancora trovato l'accordo per il rinnovo con i Blancos e il suo contratto scade nel 2023. Senza intesa, sarà addio in estate e la Juventus sarebbe tra le squadre più interessate ad Asensio, la cui valutazione oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro. La concorrenza sarebbe foltissima e di alto livello, ma la vecchia signora sarebbe in corsa, soprattutto in caso di strappo definitivo con Dybala. Un giocatore di proprietà Juve si sta mettendo in luce nel campionato di Serie B, spunta l'ipotesi di un prestito in A per l'anno prossimo. Soprattutto da quando il club bianconero ha deciso di iscrivere una sua squadra al campionato Under-23, la Juve può vantare un gran numero di giovani talenti. La maggior parte di questi, se non lasciati a disposizione della stessa squadra, b, vengono girati in prestito nei campionati delle Serie Inferiori. La politica del club bianconero in questo senso è molto chiara, l'obiettivo è quello di far accumulare maggiore esperienza possibili a ragazzi che altrimenti troverebbero pochissimo spazio in prima squadra. Uno dei prospetti più interessanti si sta mettendo in gran luce nel campionato cadetto. Complice anche la sorprendente stagione del club lombardo, il centrocampista classe 2001, ha già esordito con la rappresentativa Under-21 a settembre. Inevitabile che il ragazzo abbia suscitato l'interesse di alcuni club di A, disposti a chiederlo in prestito ai bianconeri. Il futuro ad alti livelli di Nicolò Fagioli, il centrocampista in forza alla Cremonese per la stagione in corso, sembra solo una questione di tempo. Quello che per molti può essere l'erede designato di Andrea Pirlo sebbene Fagioli spicchi anche come mezzala d'inserimento tornerà sicuramente alla base alla fine di quest'anno. La dirigenza bianconera deve decidere se lanciarlo in prima squadra o mandarlo nuovamente in prestito. C'è già un club di A che avrebbe messo gli occhi sul calciatore, sempre nell'ottica di far crescere al meglio il suo prodotto del vivaio, la Juve potrebbe vedere di buon grado la destinazione Empoli. La piazza toscana, già certa della permanenza in A il prossimo anno, potrebbe rappresentare un ulteriore step ideale per questioni ambientali per la crescita di fagioli. Il quale già nell'anno in corso sta mostrando dei progressi veramente interessanti. Il rush finale per la promozione in A per il quale la Cremonese è in piena corsa sarà decisivo per stabilire il destino di un ragazzo dal talento cristallino.